Programma per l'educazione e la promozione della sostenibilità ambientale. La Regione Basilicata crede nel programma EPOS, un viaggio per conoscere il nuovo bando che rientra nel progetto già pubblicato sul BUR del 16 dicembre scorso. Possono partecipare le scuole statali, secondarie e di secondo grado del territorio regionale in collaborazione con centri di educazione ambientale per la sostenibilità. La presentazione delle istanze sarà possibile solo attraverso la compilazione di un formulario informatico che sarà disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata a partire dal 16 gennaio prossimo. Da quella data in poi si apriranno i termini per la compilazione che sarà possibile fino alle 12 del trentesimo giorno.